No, non lo farai. Alexander! Non avrai il coraggio. Lo sterco di cavallo fa molto bene. Attento, lasciami andare o non rispondo più di me. E che cosa mi faresti? Oh, se era tutto qui, le gambe cedono. Le gambe cedono. Spero tanto che ti porti fortuna. Ciao, Alexander. Ciao, papà. Allora, figlialo, al solito posto o invece in quel nuovo locale francese a Schwabing? Dove preferisci? Scusa, di che stai parlando? Ma come? Non vuoi celebrare degnamente lo scioglimento della fusione? Senti, papà, non lo so. Anzi, ho pensato di invitare anche Barbara e sua figlia. Non prendertela a male, ma non mi va di festeggiare. Ecco, davvero? Non sei felice per lo scioglimento della fusione? Certo, come no? Ma in fondo è anche un momento che sancirà la fine del mio legame con Katarina e... Capisco. D'accordo, come vuoi. Niente festa, allora. Ma già che ci sono... Sì? Non vorrei stressarti con le mie domande, ma... Non farti problemi. Ecco, insomma. Dimmi, com'è la situazione finanziaria dell'hotel? Cioè, come sarà dopo lo scioglimento della fusione? Penso che i clinkerhamden vorranno riavere subito i soldi. Non preoccuparti. Il marito della mia amica Angela... Ah, sì, il banchiere? Sì. Lui ci farà avere il denaro necessario. Bene, ottimo. Senti, papà. Sì? È stato un grande gesto il tuo, rinunciare alla tua parte dell'hotel. Andiamo. Sì, invece. Ti sei sacrificato. E non so come dirti grazie. Davvero. L'ho fatto per i miei ragazzi. Avervi qui e vedervi felici è la cosa che mi sta più a cuore. Ah, siamo liberi. Che cosa facciamo di bello? Io avrei un'idea tanto per cominciare. Ah sì? Davvero? Beh, anch'io ne ho molte, ma sentiamo la tua. Che domande. Da me oppure da te? Beh, non lo so, ma... Io ho ancora delle lasagne a casa. Ed è l'ottimo vino. Allora da te è deciso. Rispondimi sinceramente. Mi avresti voluta come moglie se Laura non fosse tua sorella. Non te l'avrei mai chiesto se Laura non fosse mia sorella. Le lasagne mi uccidono. Appena mangiate a letto, sei avvisata. Signor Salfeld. Salve. Buona giornata. Altrettanto. Andiamo? Signor Salfeld. Signorina, come sta? Bene, e lei ha bisogno di un massaggio? Perché? Potrebbe... Ho ancora tempo e... No, no, ascolti, ho un'idea migliore. Sentiamo, che cosa fa stasera? Veramente non so, per oggi ho finito. Perfetto, allora cosa ne dice di un bicchiere con me? Un altro, grazie. Subito. Senti, che buon profumo dopo la pioggia. Sì, è vero. Ho saputo che il suo fratello rimane all'hotel. Infatti, per fortuna. Siamo tutti felici. E fa bene a rimanere, è così bello qui. E lui è indispensabile in cucina. Anche in famiglia abbiamo bisogno di Robert. Certo. Negli ultimi tempi avete lavorato insieme. Grazie. Prego. Salute. 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 A volte la invidio molto per la sua famiglia. Sì, veramente. Dei miei non ho più nessuno. E sono completamente sola. È così bello qui. L'aria, le montagne, i boschi. La invidio per questi posti meravigliosi. Sì, e non ha visto niente. Ho avuto un'idea. Le faccio fare un bel giro. Una specie di gita? Certo, perché no, in montagna. È una bella idea, ma io non sono molto allenata. No, non saliremo troppo. Facciamo solo una passeggiata. E se temi di cadere, ci sarò io a sorreggerla. Non si preoccupi. Sì, ok. Voglio rischiare. Oh no, ecco che ricomincia. Eh sì. È meglio che vada. L'accompagno a casa. No, grazie. Mi farà bene fare due passi. Senta, il moto fa bene, ma non sotto l'acqua. Ma signor Zalfeld... Io sono il capo e lei è una dipendente. E i dipendenti ubbidiscono al capo. Giusto? Sì. Per di qua, venga. Ok. Quenti. Diciamo che mia madre è amica della moglie del console che ha dato la festa. E allora vai. Ma cosa succede qui? State facendo una festa? Ciao. Venite e prendetevi qualcosa da bere. Stiamo festeggiando il compleanno di Marie. Avevate qualcos'altro in mente, eh? Altri ospiti. Siamo venuti per ripararci del temporale. Ma certo. Guardiamo nel frigorifero. Cosa facciamo? Qui non possiamo stare tranquilli. Forse è meglio se andiamo da me. Non sarà un po' scortese? Tu e Marie. Noi non siamo stati invitati. Non mi sembra che sentirebbero la nostra mancanza. No! Finiamo. Allora, pronti ragazzi? Si brinda! Questo è mio. La prego, apre questa porta. Sì, che disastro. Accidenti. Ma che razza di tempaccio. Che pioggia. Mi perdoni, è andato tutto quanto storto. Non importa. Poi siamo all'asciutto. E dire che volevo accompagnarla perché non si bagnasse. Non poteva immaginare di forare una gomma. Ma potevo preoccuparmi di avere una ruota riscorta. Si levi la camicia, altrimenti si raffredderà. Ma gli ordini? Per asciugarsi. Grazie. È bella spettinata. Non lo sapeva. Che fortuna, eh? Meno male che ha smesso di piovere. O ci saremmo bagnati dalla testa ai piedi. Già. E ce l'avresti ancora di più con me. Io? Perché dovrei avercela con te? Perché ti ho trascinata via dalla festa in tutta fretta. No. Allora mi perdoni? Volevo averti tutta per me stasera. Sicuro? Anzi, sono io che mi sento un po' in colpa. Per cosa? Maria è anche mia amica. E allora? Puoi farglieli domani gli auguri. Dilla che è stata colpa mia. Ah sì? Oh, guarda qui. La camicia di Ellen. Tutta bagnata. Sì, non ha avuto la nostra stessa fortuna. Io sono davvero fortunato. Vero. Sì, non ha avuto la nostra stessa. Faccio un caffè anche per te? Eh.